Ok, allora dobbiamo proteggere Sophie. Lo faremo non appena la troveremo. Sophie è scomparsa. E Anemo ne ha ragione. Rafal distruggerà l'intera scuola se unisce le forze con Sophie. Bugie. Sono tutte bugie. È solo un altro stratagemma perché il bene vinca di nuovo. Credimi, non lo è. Se mio fratello è tornato dal mondo dei morti, c'è la possibilità che nessuno di noi sopravviva. L'è dilesso. Nessuno. Cercate Sophie, adesso, in entrambe le scuole. Sì, subito. E Agatha... Va al ballo dei buoni. Sophie potrebbe presentarsi lì. Se lo farà, portala da me. Adesso va.